La navetta del mare sarà il terzo fine settimana, Luigi Albore Mascia. Quali sono stati finora i riscontri? Il riscontro più importante è dato dal gradimento della nostra popolazione, da parte dei turisti, su un'esperienza che non era stata mai implementata a Pescara con questa vastità, cioè con due linee, una che va verso nord e una che va verso sud, con due distinti mezzi, con due aree di interscambio per poter anche parcheggiare gratuitamente la propria automobile. La domanda è questa, perché non dai colli? Su questo stiamo lavorando, stiamo ragionando con TUA, non dimentichiamo che questo è un servizio di trasporto pubblico sostenuto dal Comune di Pescara. Io credo che a breve potrebbero esserci notizie interessanti, forse addirittura anche per quest'estate, su una combinazione di esercizio che possa anche garantire alla popolazione dei colli di poter avere utilmente la possibilità di raggiungere senza automobile il nostro lungomare e i nostri stabilimenti balneari. Monopattini, è cambiato il fornitore e poi c'è la novità delle biciclette elettriche. L'impegno con Elbiz scade alla fine di questo mese, sono già comparse le biciclette in bike sharing, anche questa è la prima volta che Pescara ha un servizio di questo genere, che sta avendo anche qui un riscontro molto interessante dai dati che ci fornisce la Bit Mobility e la stessa Bit Mobility subentrerà dalla fine del mese anche nella gestione dei monopattini elettrici con dei mezzi nuovi, mezzi diversi. Non ci dimentichiamo che Pescara in Italia è l'ottava città per sharing mobility, cioè per utilizzo di mezzi alternativi. I mezzi che arriveranno a Pescara, leggo testualmente, sono dotati di una tecnologia avanzata in grado di rilevare precisamente le caratteristiche di ogni strada della città, ergo anche delle buche. Questa è una provocazione alla profeta, bisogna stare attenti alle buche, anche qui c'è un piano di riqualificazione delle strade che sono 360 km in tutta la città. Noi abbiamo magari una visione più parcellizzata, ma la città è molto grande. I monopattini hanno questo sistema di georeferenziazione. Questa tecnologia comporterà un rallentamento vistoso del monopattino sul marciapiede della riviera e quindi la creazione di un forte deterrente per l'utilizzatore ad avere comportamenti scorretti. Finalmente si separa ciò che è la prerogativa dei pedoni rispetto a quelli che possono fruire di un questo mezzo attraverso la pista ciclabile che corre a fianco al marciapiede del lungomare.